buongiorno sono agata di dio sono un urologo andrologo siciliano era la seconda volta che mi sono lavata col professor antonini con questa tecnica infrapubblica io di solito eseguito sempre interventi di impianti per via penosclotare e devo riconoscere che questa tecnica è veramente innovativa per tanti da tanti punti di vista uno perché l'incisione chirurgica è veramente molto minima rispetto a quella dell'accesso penosclotale e poi devo dire che i tempi chirurgici sono veramente molto molto brevi per cui sia da un punto di vista di paziente stesso ma anche del chirurgo operatore che deve essere naturalmente esperto è una tecnica di sicuro superiore alla penosclotale